Oggi è la prima giornata a motori rombanti della settimana motoristica ennese con in programma test e prove libere per le 36 Formula 1 prodotte prima del 1966 che faranno rivivere i fasti del Gran Premio del Mediterraneo. Sabato si entra nel vivo dei turni ufficiali con le qualifiche a partire dalle 9.35. Domenica è attesissima la giornata finale con ulteriori parate e vari eventi collaterali.